L'onomastico di Chiara Un'eclissi totale di sole in Europa e Asia È l'ultima eclissi quasi totale vista in Italia La prossima eclissi totale di sole avverrà il 2 agosto del 2027 Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati l'11 agosto Ricordiamo l'allenatore di calcio Massimiliano Allegri Il wrestler e attore americano Hulk Hogan La citazione del giorno Qualsiasi imbecille può dire la verità Ma è necessario un uomo di senno per saper mentire bene Samuel Butler Dice il saggio Il fiore non ha né davanti né di dietro Il bel paese Nei pressi di Avigliano Umbro, in provincia di Terni C'è una foresta molto speciale Si tratta della foresta fossile di Dunaroba Un sito paleontologico venuto alla luce alla fine degli anni 70 Qui si possono ammirare i resti di 50 tronchi di gigantesche conifere Il cui diametro varia da un metro a quattro E le cui altezze possono arrivare fino a otto metri La particolarità di questi reperti è che si tratta di alberi mummificati E non fossilizzati con il mantenimento totale delle caratteristiche del legno originario Questo è dovuto al fatto che i tronchi sono stati soggetti ad un seppellimento continuo e graduale All'interno di un'area paludosa sulle rive di un lago Grazie a tutti! Grazie a tutti.